Amen. Amen. Potete sedervi. Sì. Veramente siamo stati già benedetti attraverso la parola che è stata letta. È così potente quando la parola di Dio è così direttamente indirizzata a noi e se noi ci ritroviamo nella parola. Se ci ritroviamo nella parola che questo passo della scrittura non è stato soltanto scritto per la chiesa in Corinto, ciò che abbiamo appena letto, ma piuttosto è indirizzata e scritta per tutti i veri credenti in ogni tempo, in ogni nazione, in ogni lingua su tutta la terra. E questo è straordinario nella parola di Dio che possiamo credere con tutto il nostro cuore ricevendo ogni cosa. Certamente torneremo su questo. In primo luogo vorrei dare il benvenuto ai nostri cari visitatori dal Canada in modo veramente speciale. Sentitevi a casa, intendo dire i visitatori da Edmonton, possa il Signore benedirvi tutti ed essere con voi tutti. Poi le visite dagli Stati Uniti, da Atlanta, visite dal Sud Africa, visite da tutta l'Europa. E siamo molto molto riconoscenti che possiamo essere uniti con tutti coloro che in questo tempo ascoltano la vera parola di Dio. La ricevono, la credono e a loro viene rivelata che è indirizzata ad ognuno personalmente e che ciascuno personalmente dia la risposta. Sì, signore, io credo. Abbiamo ricevuto saluti per via telefono dal fratello Moamba da Colvezzi, dal fratello Dottor Mbie da Bujimai. E se posso menzionare questo adesso, questo fratello che mi ha incontrato a Kinshasa almeno 36 anni fa, Dio ha usato questi due fratelli, uno era un avvocato e l'altro un medico. E Dio li ha usati in quel paese in modo straordinario. Poi il fratello Stefano Genton, poi il fratello Jacques dalla Costa d'Avorio, il fratello Malcolm da Durban, il fratello Jean-Claude, che adesso è in Inghilterra e gli vi saluta, il fratello Geremia dalla Turchia e riguardo a questo sono stato molto felice quando il fratello Geremia dalla Turchia mi ha telefonato e ha potuto darmi un resoconto di quello che Dio fa là. Poi il fratello Inody, il fratello Gilson, il fratello Kupfer, il fratello Bulumba da Goma e questo è di nuovo qualcosa di veramente speciale. Il fratello Elisha è oggi qui. Quattro settimane fa egli era a Goma. Quattro settimane fa e sapete cos'è accaduto? 232 predicatori si sono radunati per ascoltare la trasmissione in diretta per avere parte in quello che accade qui. Ciò che viene predicato qui tramite la parola di Dio e se poi viene dato il resoconto di quanta distanza hanno dovuto percorrere a piedi poi hanno viaggiato in autobus e poi di nuovo a piedi ma Dio ha mandato una fame e le persone vengono per ascoltare la parola. Poi il fratello Cornelio da Kigali il fratello Ungonga dal Sudafrica poi tutto il gruppo dal Sudamerica poi il fratello Thomas dal Sudamerica e poi il fratello Asci della costa d'Avorio il fratello Paul da Nairobi il fratello Joseph da Kinshasa ancora un fratello dal Sudamerica e il fratello Cecil da Pretoria e poi vi chiedo tutta questa pila di email se non li menziono non è buono e se lo faccio qui abbiamo saluti dall'Ucraina speciali saluti da Donetsk noi tutti abbiamo sentito parlare molto della città di Donetsk il fratello Smith e Dio stesso abbiamo predicato là e noi tutti sappiamo ciò che accade là adesso ma loro mandano i saluti poi saluti dal fratello Olek che è in Portogallo e che ascolta adesso con l'intero gruppo che Dio li benedica saluti dal fratello Cosmi Bra dall'Angola saluti dal fratello Moses Jan da Denver poi saluti dal fratello Adonis poi saluti dal fratello Ludwig dall'Ungheria saluti dal fratello dal fratello Esmart dal Congo saluti dal fratello Roger dal Congo saluti dal fratello Motica da Johannesburg saluti dal fratello Graf dalla Svizzera saluti dal fratello da Silva da Città del Capo voi tutti sapete dove si trova saluti dal fratello Funda dal fratello Cristian dalla Romania saluti dalla sorella Olveti e tutti quelli dalla Finlandia mandano i saluti poi dal fratello Calela poi il fratello Lucram dalla Mongolia egli è giusto là adesso poi saluti dal fratello Loron ancora una volta saluti dall'Ungheria ancora una volta saluti dal fratello Cabenga saluti dal fratello Daniel da Kinshasa saluti dal fratello Donati saluti da Colvezzi saluti dal fratello Pino Davi da Palermo saluti da Burnina ancora una volta saluti dalla Costa d'Avorio saluti dal fratello Matthew saluti dal fratello Schofer ancora una volta saluti dalla Repubblica del Congo saluti ancora una volta da Goma saluti da Diograzias e Calela da London Sudafrica poi dal fratello Calamba dalla Repubblica del Congo ci siamo quasi saluti dal fratello Matthew e poi dal fratello Anderson dal fratello e della sorella Anderson da Auckland, Nuova Zelanda poi il fratello Bruce da Città del Capo poi il fratello Vladimir da Kiskyrien chissà dove si trova sì è a metà strada da Mosca all'altra estremità della Repubblica Russa abbiamo detto tutto fratelli e sorelle siamo realmente riconoscenti che Dio ha dato la possibilità che la sua parola possa essere portata in tutto il mondo e che noi abbiamo parte in questa ultima e importante proclamazione e questo non lo diciamo soltanto ma è così siamo arrivati nell'ultimo periodo del tempo della grazia ogni cosa viene ad impiuta specialmente se possiamo menzionare questo adesso riguardo ad Israele questo realmente tocca i nostri cuori principalmente chi può cambiare qualcosa che Dio ha chiamato Abramo dalla città di Ur dei Caldei e gli ha dato delle promesse ma nella prima promessa non fu menzionata soltanto una nazione ma in te saranno benedette tutte le famiglie della terra Genesi capitolo 12 ed è così che naturalmente è accaduto ogni nazione sulla terra è stata inclusa nel piano divino di salvezza già in Isaia capitolo 42 in Isaia capitolo 49 in Osea capitolo 1 Osea capitolo 2 voi che non siete mio popolo sarete chiamati figli dell'Altissimo e Galati capitolo 3 in Cristo tutti sono stati benedetti in ogni popolo e in ogni lingua ma quello che viene fatto ad Israele e con Israele noi tutti l'abbiamo compreso è incomprensibile ma tutto il mondo è contro Israele e il Signore nel primo incontro con Abramo disse benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà cosa può fare Dio con le persone che non riconoscono il piano di salvezza e che non accettano ciò che Dio ci ha dato in Gesù Cristo il nostro Signore cosa può fare Dio con le persone che dicono che Israele non dovrebbe più esistere sì e cosa allora Dio naturalmente ha stabilito così si può leggere nella Sacra scrittura ma anche questo con la striscia di Gaza noi l'abbiamo già esaminato la volta scorsa Gaza non esisterà più sia che accada adesso che accada fra alcuni mesi o l'anno prossimo nessuno può dirlo ma è scritto così in Sofonia capitolo 2 dal verso 4 è scritto molto chiaramente Sofonia capitolo 2 verso 4 cosa diremo al riguardo qui possiamo leggerlo in Sofonia capitolo 2 verso 4 poiché Gaza sarà abbandonata e Ashcalon diventerà una desolazione scacceranno Ashdot con violenza in pieno mezzogiorno ed Ekron sarà sradicata cosa diremo al riguardo è la profezia della Bibbia Dio sapeva esattamente come le nazioni avrebbero reagito e poi l'avvertimento è stato dato nel verso 5 e poi specialmente nel verso 7 la costa apparterrà al residuo della casa di Giuda poi il verso 10 questo avverrà loro per la loro superbia per la loro superbia perché hanno insultato e trattato con arroganza il popolo dell'eterno degli eserciti così è scritto nella profezia della Bibbia così è stato predetto e così accadrà e continuerà ad accadere poi abbiamo qui prima che iniziamo il verso 4 è scritto naturalmente nel verso 3 cercate l'eterno voi tutti umili della terra che praticate la sua legge cercate la giustizia cercate l'umiltà forse sarete nascosti nel giorno dell'ira dell'eterno giusto come osservazione noi non ci mischiamo con la politica ma non è mai esistito uno stato palestinese c'era soltanto la transgiordania e tutta la westbank appartiene ad essa nel 1964 ho viaggiato in autobus da amman lungo tutta la costa ovest fino alla porta di gerusalemme si era la transgiordania e gaza fin tanto che apparteneva ad israele loro tutti avevano un alto tenore di vita come in nessun altra nazione sulla terra quante volte abbiamo visitato gaza ashkelon eravamo là con dei gruppi soltanto quando è diventata indipendente i nemici di israele hanno costruito i tunnel e hanno recato distruzione ma ora quale conforto riguardo a questo tema in zaccaria in zaccaria capitolo 8 zaccaria capitolo 8 qui il verso 3 e il verso 4 così dice l'eterno io ritornerò a sion e dimorerò in mezzo a gerusalemme gerusalemme sarà chiamata la città della fedeltà è il monte dell'eterno degli eserciti il monte della santità il signore dio inizierà il suo regno sul monte sion in tutto il mondo poi il verso 7 zaccaria capitolo 8 verso 7 così dice l'eterno degli eserciti ecco io salverò il mio popolo dal paese dell'est e dal paese dell'ovest io li farò venire ed essi abiteranno in gerusalemme essi saranno il mio popolo e io sarò il loro dio con fedeltà e giustizia è molto potente la promessa che dio ha dato magari anche il verso 9 al guardo così dice l'eterno degli eserciti le vostre mani siano forti voi che udite in questi giorni queste parole dalla bocca dei profeti che c'erano al tempo in cui si gettavano le fondamenta della casa dell'eterno affinché si possa ricostruire il tempio già la ricostruzione del tempio è promessa in questo collegamento e ciò accadrà così certo come scritto e poi in apocalisse capitolo 11 misura il tempio di dio e quelli che vi adorano isaia capitolo 65 e capitolo 66 tutto sarà santo nel tempio e apparterrà al signore queste sono le promesse per israele le nostre promesse le promesse per la chiesa naturalmente per noi sono le più preziose le più importanti ed è molto bello se le crediamo con tutto il nostro cuore e per grazia possiamo sperimentare e testimoniare ogni cosa siamo sinceri adesso siamo sinceri quando abbiamo letto la parola di introduzione ci siamo naturalmente ritrovati se è scritto qui lo leggo ancora volta il verso 14 2 corinzi capitolo 3 verso 14 2 corinzi capitolo 3 verso 14 15 ma le loro menti sono diventate ottuse infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché perché il velo viene annullato in Cristo anche questo l'abbiamo già detto fratelli e sorelle leggere soltanto la Torah e leggere i profeti non è sufficiente il velo il velo deve essere tolto dal cuore e dagli occhi e questo può accadere soltanto tramite la rivalazione di Gesù Cristo quando ieri ho letto in una rivista israeliana che Elia deve essere già qui ed egli ad ogni momento introdurrà il Messia allora mi sono realmente chiesto come le persone possono arrivare a ciò come allora quando il Messia è venuto ora egli viene naturalmente in primo luogo per portarci a casa quale sposo per portare la sua sposa a casa e soltanto dopo egli si rivelerà al suo popolo Israele ma naturalmente non sopra un asino questo naturalmente è accaduto duemila anni fa quando verrà adesso egli verrà quale signore quale re e si rivelerà al suo popolo fratelli e sorelle è qualcosa di meraviglioso che Dio ci ha rivelato l'intero suo piano di salvezza per grazia come abbiamo letto nel verso 17 in 2 corinzi capitolo 3 nel verso 17 or il signore è lo spirito e dov'è lo spirito del signore vi è libertà è un'introduzione in tutto il piano di salvezza del nostro Dio io spero che noi tutti possiamo essere d'accordo con questo se viene detto qui è noi tutti non soltanto egli ed alcuni apostoli ma noi tutti noi tutti che crediamo così è scritto qui nel verso 18 e noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del signore siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo spirito del signore o come possiamo essere riconoscenti che Dio specialmente Paolo e gli apostoli Dio li ha usati in modo speciale per mettere per iscritto ogni cosa ciò che dobbiamo sapere fino alla fine e tramite questo abbiamo ricevuto la piena comprensione per grazia poi egli scrive nel capitolo 4 l'abbiamo già letto capitolo 4 verso 1 perciò avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta non ci perdiamo d'animo abbiamo ricevuto un ministero noi amministriamo i segreti di Dio e predichiamo l'intero consiglio di Dio e a noi è richiesto che siamo fedeli in ciò mi piace di più il verso 2 nel capitolo 4 anzi abbiamo rinunziato ai sotterfuggi della vergogna non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio ma mediante la manifestazione della verità raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio amén e questo si può dire qui in questo luogo ciò che viene predicato qui in questo luogo questo sarebbe predicato se il nostro Signore prendesse posto in modo visibile e siederebbe qui e lo dico con un cuore sincero mai nella mia vita ho cercato un guadagno agendo con astuzia avendo ciò nella mia mente perché cosa perché cosa ciò che Dio ci ha rivelato ciò che Gli ci ha affidato questo noi possiamo trasmetterlo e chi è da Dio gli sarà rivelato poi ci viene descritto qui ciò che accade con coloro che non credono per loro ciò rimane nascosto e periscono e a coloro che credono ad essi ciò viene rivelato poi il verso 6 perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo lo stesso Dio che disse sia la luce lo stesso Dio ci ha parlato attraverso la sua parola ed è diventata luce giusto come il fratello Brana l'ha evidenziato molte volte al tempo della sera ci sarà luce ed è sempre stato così quando è giunto il tempo dell'adempimento della promessa allora Dio ha avuto sulla terra coloro che hanno potuto credere che hanno potuto riceverlo e per grazia l'hanno sperimentato ciò che mi rende pure occupato è in 2 Corinzi capitolo 6 ciò che Dio ha messo specialmente nel cuore di Paolo in 2 Corinzi capitolo 6 verso 2 perché egli dice io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza questo mi è diventato grande già nelle ultime riunioni che ho avuto anche domenica scorsa a Zurigo chi realmente riconosce il giorno della salvezza questi riceve aiuto viene aiutato nel giorno della salvezza e perciò è così importante ricevere e accettare ciò che Dio ci ha promesso in questo tempo e ciò che egli ci ha dato leggiamo ancora una volta l'intero versetto perché egli dice Isaia capitolo 49 verso 8 perché egli dice io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza ecco ora il tempo accettevole ecco ora il giorno ecco ora il giorno non un certo giorno adesso oggi è il giorno della salvezza questo possiamo riconoscerlo per grazia che c'è un oggi per noi che noi crediamo le promesse per questo tempo che le riceviamo e le accettiamo e in Isaia capitolo 49 abbiamo naturalmente la potente promessa riguardo a ciò che sarebbe dovuto accadere l'adempimento è in Matteo capitolo 12 ma leggiamo in primo luogo Isaia capitolo 49 ciò che era stato predetto e ciò che è stato anche adempiuto Isaia capitolo 49 verso 6 egli dice è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele no no ti ho stabilito come la luce delle nazioni perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra questo è il giorno della salvezza questo è il tempo della grazia nessuno ha bisogno di biasimare Israele tutte le nazioni sono state incluse e se osserviamo attentamente in due posti nel libro degli atti Paolo ha predicato e all'improvviso tristemente lo dico con dolore egli ha dovuto dire ai giudei siccome non avete accettato il Vangelo perciò ci volgiamo ai gentili perché così è scritto ti ho stabilito come la luce delle nazioni e la seconda volta quando i giudei increduli lo hanno perseguitato e tutta la città era contro di lui egli ha dovuto dire di nuovo ora ci volgiamo ai gentili Dio ha avuto un tempo per Israele e Dio ha un tempo per i gentili e Dio avrà di nuovo un tempo per Israele ogni cosa naturalmente è stata predetta in anticipo ed è così che viene adempiuto fino nel nostro tempo non è sufficiente Dio ha detto non è sufficiente che avrebbe rialzato le tribù di Israele no ti ho stabilito come la luce delle nazioni perché cosa affinché tutti diventino cristiani affinché la mia salvezza nel giorno della salvezza raggiunga l'estremità della terra e sia manifestato e di questo si tratta Dio non ci ha dato il cristianesimo egli ci ha dato la vera salvezza e il vero perdono in Cristo Gesù il nostro Signore poi abbiamo qui nel Nuo Testamento abbiamo il diretto accesso in Luca in Luca capitolo 1 come è stato detto dallo spirito di Dio ciò che è accaduto in quel tempo e nella stessa maniera è stato predetto ciò che accade adesso Luca capitolo 1 qui sta scritto Luca capitolo 1 Luca capitolo 1 dal verso 67 Zaccaria suo padre fu pieno di spirito santo e profetizzò dicendo benedetto sia il Signore il Dio di Israele perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore verso 70 come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti fin dai tempi antichi verso 72 per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto egli si ricorda del suo patto e del suo popolo e delle sue promesse che egli ci ha dato poi continuiamo a leggere e questo mi piace molto dal verso 76 e tu o piccolo bambino sarai chiamato profeta dell'altissimo perché tu andrai davanti alla faccia del signore a preparare le sue vie questa è naturalmente la promessa in malachia capitolo 3 verso 1 in primo luogo le parole profetiche e poi il riferimento alla promessa in malachia capitolo 3 verso 1 e perché perché cosa preparare le sue vie verso 77 per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati peccati non una religione no il giorno della salvezza per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati ciò inizia con la remissione dei peccati con la riconciliazione è iniziato che il signore si è indirizzato a noi e noi gli abbiamo risposto egli ci ha chiamati e noi abbiamo risposto a questa chiamata poi il verso 78 grazie alle viscere di misericordia del nostro dio per cui l'aurora dall'alto ci visiterà per cui l'aurora dall'alto ci visiterà diciamolo ancora una volta non una nuova religione ma la riconciliazione con dio il perdono la remissione dei peccati una personale esperienza di salvezza con dio e poi affinché grazie alle viscere di misericordia del nostro dio per cui l'aurora dall'alto ci visiterà per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte per guidare i nostri passi nella via della pace un compositore ha scritto quando ho pace come un fiume quando ho pace come un fiume che inonda la mia anima allora il cuore giubila posso farvi questa domanda chi ha fatto questa esperienza soprannaturale di salvezza che in primo luogo con supplicazioni ha pregato per il perdone poi all'improvviso all'improvviso qualcosa è accaduto che voi avete ricevuto la certezza che il signore vi ha accettato vi ha perdonato e poi viene la lode realmente viene la lode nessuno ha bisogno di fabbricarla è semplicemente la è come una fonte che sgorga e poi viene il ringraziamento per il signore dunque realmente il signore Dio si è preso cura di ogni cosa ma si deve mettere piede sulla via sin dall'inizio e il nostro signore ha detto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano e perciò entrate per la porta stretta dunque noi ringraziamo il signore Dio che realmente possiamo predicare il nocciolo del Vangelo Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé poi in merito al compimento permettetemi di leggere la parola dal Vangelo di Giovanni capitolo 17 qui il signore dichiara che l'opera di redenzione è compiuta Giovanni capitolo 17 verso 4 Giovanni capitolo 17 verso 4 leggiamo anche il verso 3 or questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato ed ora viene il verso meraviglioso che il nostro Signore ha pronunciato io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare l'opera di redenzione non è soltanto iniziata ma è stata portata a compimento è compiuta la redenzione non è stata soltanto fatta ma è stata fatta e portata a compimento in coloro che lasciano che sia portata a compimento che realmente rimangono fedeli fino alla fine che hanno accettato e ricevuto ciò che Dio ha detto e che poi raggiungono la destinazione abbiamo un gran numero di passi della scrittura da leggere che parlano naturalmente di questo ma un passo della scrittura che realmente tocca il mio cuore è in primo Corinzi capitolo 10 e per favore fratelli e sorelle non considerate ciò come se il Signore ci volesse rimproverare ma Egli vuole mostrarci soltanto che l'opera compiuta di redenzione è stata portata a compimento in noi tramite fede e obbedienza Egli ha compiuto l'opera ma l'opera deve essere anche portata a compimento in voi e in me è scritto in primo Corinzi capitolo 10 dal verso 1 al verso 4 che il Signore ha fatto grandi cose li ha nutriti con la manna ha fatto bere loro acqua dalla roccia Egli ha fatto grandi cose cose soprannaturali Egli li ha fatte in mezzo al suo popolo Il Signore stesso si è rivelato nella colonna di fuoco nella colonna di nuvola li ha accompagnati e loro hanno bevuto dalla roccia che era con loro battezzati per Mosè battezzati nella nuvola e poi il risultato verso 5 ma della maggior parte di loro e Dio non si compiacque poiché furono atterrati nel deserto e sapete cosa è anche scritto ve lo leggo nel verso 10 e nel verso 11 dello stesso capitolo primo corinzi capitolo 10 verso 10 e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore fratelli e sorelle noi realmente dobbiamo fare attenzione dobbiamo tenere a freno la nostra lingua dobbiamo consacrare la nostra lingua al Signore anche questo l'abbiamo detto qui molte volte il giorno di Pentecoste non si trattava soltanto dell'unzione con lo spirito in merito al riempimento con lo spirito no si trattava era importante che la lingua fosse purificata tramite il fuoco e la lingua è purificata prima e poi viene messa al servizio di Dio e qui abbiamo letto vale a dire che il distruttore il distruttore fece perire coloro che mormoravano che mormoravano nulla era corretto per loro Mosè non aveva fatto le cose corrette ogni cosa in un certo modo non era nella maniera in cui loro volevano che fosse ma quelle cose erano come Dio voleva che fossero e perciò fratelli e sorelle noi dobbiamo prestare attenzione dobbiamo prestare attenzione perché il verso successivo è indirizzato a me e a voi già allora verso undici or queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammunizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi ora pensate un po' duemila anni fa l'uomo di Dio ha scritto ciò che è per il nostro tempo or queste cose avvennero loro per servire ad esempio e sono state scritte per ammunizione di noi per voi e per me ricevete l'ammunizione ricevete l'avvertimento o passate accanto a ciò fratelli e sorelle prestiamo attenzione ad ogni ammunizione ad ogni avvertimento che Dio ci dà nella sua parola perché così è scritto qui e sono state scritte per ammunizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi è mai stata la fine così vicina come oggi non viviamo la fine del tempo della fine prestiamo attenzione che realmente siamo trovati nella volontà di Dio che ci edifichiamo gli uni gli altri che ci consoliamo gli uni gli altri ammonendoci gli uni gli altri affinché troviamo insieme la meta anche questo fratelli e sorelle l'ho già detto qui molte volte come certo che abbiamo seminato soltanto la vera semenza della parola di Dio la genuina parola di Dio predicata e come certo che voi l'avete ricevuta per fede così è certo che accadrà quando il Signore radunerà il suo grano nel suo granaio affinché noi tutti che crediamo adesso saremo là io non crederò mai diversamente non crederò mai che Dio vi ha chiamati per darvi soltanto una buona speranza che non vedrete adempiersi quando Dio fa una promessa e anche questa promessa è reale come abbiamo letto di Giovanni Battista egli ha preparato la via al Signore e si può leggere in Luca capitolo 1 ciò che è realmente accaduto con coloro che hanno ricevuto e accettato la parola qui possiamo leggerlo in Luca capitolo 1 versi 16 e 17 e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore e Dio loro ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti a fin di preparare al Signore un popolo ben disposto questo è naturalmente collegato con questa predicazione e se è scritto che della maggior parte di coloro che hanno stati chiamati fuori Dio non si compiacque perché con tutto ciò che accadeva loro mormoravano non erano soddisfatti e 23.000 persone morirono all'istante qui ci viene mostrato noi che viviamo adesso alla fine del tempo della grazia che realmente il nostro Signore raggiunga i nostri cuori non la nostra testa ma raggiunga i nostri cuori e ritorniamo a questa fede vivente nel Dio vivente e siamo ubbidienti e ci lasciamo collocare nella volontà di Dio anche questo deve essere evidenziato molto come certo che c'è stato un precursore alla prima venuta di Cristo che ha preparato la via al Signore che ha preparato un popolo ben disposto al Signore come abbiamo letto per preparare al Signore un popolo ben disposto cosa accade qui tramite la predicazione quante volte abbiamo letto Matteo capitolo 25 verso 10 quelle che erano pronte sono entrate quelle che erano pronte sono entrate e la porta fu chiusa io non credo che parlo qui a delle vergini stolte io credo che noi formiamo la sposa dell'agnello almeno una parte della sposa e tutti coloro che credono adesso con il loro cuore avranno parte in ciò che Dio fa proprio adesso e a questo appartiene realmente la promessa che Dio avrebbe mandato alla fine del tempo della grazia che egli avrebbe mandato un profeta per restaurare tutte le cose affinché al Signore sia preparato un popolo ben disposto e perciò perciò la chiamata è stata indirizzata al nostro caro fratello Brana come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo e questo è un fatto divino nei nostri giorni non so se dovrei mostrarvi qui qualcosa ma negli Stati Uniti la realmente sotto la foto sotto la foto della nuvola come è stata scattata a Houston Texas nel 1950 e il dottor George J Lacy ha confermato che non c'era una doppia esposizione no questa luce divina la luce sovranaturale era là altrimenti le lenti della macchina fotografica non l'avrebbero presa e sotto questa potente foto hanno scritto un testo e c'è realmente scritto è realmente scritto posso portarvelo domani c'è scritto come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo così tu sei mandato per precedere la seconda venuta di Cristo nulla del messaggio nessuna parola del messaggio soltanto una falsificazione una falsità sotto la foto con la luce sovranaturale con la colonna di fuoco sopra il capo del fratello Branham e in fondo al quadro c'è questa falsificazione e questo ha lo scopo che con il ministero del fratello Branham ogni cosa è terminata e che nessun uomo ha bisogno né il fratello Frank nessuno ha il diritto di affermare di portare il messaggio tutto questo è già passato no e ancora no noi siamo portatori del messaggio divino finché il signore ritorna e siamo riconoscenti riconoscenti con tutto il nostro cuore che il signore ci ha custoditi nella sua parola voi potete anche comprendere me quando penso al riguardo sebbene sia una testimonianza personale ma come il signore ha guidato tutte le vie anche questo ve l'ho detto molte volte dopo che il fratello Branham mi disse parola per parola come mi ha ripetuto ciò che il signore mi aveva detto e quando ha terminato questo tema all'improvviso all'improvviso mi disse in merito al viaggio di Paolo a Gerusalemme non devi preoccupartene era nella volontà di Dio ogni volta che leggevo il libro degli atti chiedevo sempre Paolo tu hai messo di nuovo la legge in vigore hai pagato per la purificazione tua e del tuo fratello hai fatto un voto sei entrato nel tempio perché hai fatto questo ogni volta ogni volta pensavo a questo quando leggevo il libro degli atti e non arrivavo a comprenderlo ma realmente all'improvviso egli disse fratello Frank in merito al viaggio di Paolo a Gerusalemme non devi fartene un problema era nella volontà di Dio fratelli e sorelle per grazia per grazia ho sperimentato questo ministero soprannaturale personalmente l'ho visto e l'ho sperimentato e perciò il dolore è così grande se qualcosa viene cambiata il fratello Branham ha detto molte volte più di cento volte con Eva è stata soltanto una parola che è stata aggiunta e ha avuto luogo la caduta nessuna parola può essere cambiata aggiunta o tolta ogni cosa deve essere lasciata nel modo in cui è fratelli e sorelle oggi avremo la cena del Signore il desiderio era così grande in alcuni fratelli e sorelle specialmente in coloro che possono venire una volta all'anno e hanno espresso il desiderio di poter avere oggi la cena del Signore e il Signore disse in quel tempo ho grandemente desiderato prendere questa cena con voi ed egli disse non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio e poi abbiamo letto Imbri Corinzi capitolo dieci una parte l'abbiamo già letta ma la seconda parte possiamo leggerla adesso avete compreso ciò che è stato detto avete compreso di cosa si tratta che realmente nulla può essere cambiato ogni cosa deve rimanere come il Signore Dio l'ha detto e qui nello stesso capitolo in primo Corinzi capitolo dieci leggiamo giusto il verso sedici e il verso diciassette il calice della benedizione che noi benediciamo non è egli la comunione col sangue di Cristo il pane che noi rompiamo non è egli la comunione col corpo di Cristo quando avremo il pane qui e pregheremo metteremo ogni cosa davanti al Signore ciò va insieme celebrare la cena del Signore finché egli ritorni finché egli ritorni e ci porti a casa così celebreremo la cena con lui siccome è un unico pane noi che siamo molti siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane fratelli e sorelle amici specialmente quando guardo i giovani anche il nostro fratello dalla Polonia tutti coloro che sono venuti anche tutti gli altri giovani il profondo desiderio sorge in me che tutti i giovani che tutti grandi e piccoli che tutti facciano un'esperienza personale con Dio che nel giorno della salvezza la riconciliazione e il perdono non venga soltanto predicato ma venga realmente sperimentato da tutti noi possiamo predicare il perdono ma il perdono avviene tramite la fede in Gesù Cristo il nostro Signore tramite il sangue che è stato sparso sulla croce del Calvario tramite questo abbiamo ricevuto il perdono dei peccati e come abbiamo dito nella parola di introduzione anche le nostre vesti saranno più bianche della neve saranno lucenti una meravigliosa lucentezza come io l'ho visto nel rapimento nella moltitudine vestita di bianco non ci sarà più alcun ricordo del passato nulla ogni cosa sarà passata per sempre e saremo cambiati all'immagine del nostro Signore saremo giovani e per sempre ci rallegreremo nella gloria del nostro Dio cari giovani e tutti coloro che probabilmente sono qui oggi per la prima volta possa Dio fare grazia a noi tutti voi tutti i nuovi arrivati che probabilmente non avete mai udito il pieno Vangelo in questa maniera che probabilmente siete soltanto membri di una denominazione oggi è il giorno della salvezza oggi è il tempo accettevole oggi vi supplichiamo nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio alla cena del Signore dovrebbero partecipare soltanto coloro che realmente hanno ricevuto e accettato l'opera di redenzione il nostro Signore stesso ha detto io ho compiuto l'opera che tu mi hai data da fare e sulla croce egli ha esclamato è compiuto soltanto colui che riceve la redenzione tramite il sangue dell'agnello solo costui dovrebbe partecipare con buona coscienza alla cena del Signore chi non riceve il perdono tramite il sangue dell'agnello chi non è ancora nato di nuovo ad una vivente speranza la cena del Signore è una cena di ricordo di ciò che è accaduto per noi ma deve accadere in voi e in me deve accadere in noi tutti il perdono possiamo predicarlo ma egli il nostro Signore è colui che ha detto che perdona tutte le tue iniquità e che guarisce tutte le tue infermità anche la guarigione possiamo predicarla ma per le sue lividure siamo stati già guariti forse posso menzionare questo ciò che ho menzionato qui mercoledì scorso nello studio biblico il fratello Branham ha detto nel gennaio 1955 come voi nell'ambito naturale per esempio quando guidate la vostra macchina voi non vi sedete in macchina e pensate come si fa come funziona tutto ciò che voi fate nell'ambito naturale lo fate in maniera automatica voi sapete come viene fatto e poi egli passa all'ambito spirituale nella stessa maniera e nell'ambito spirituale avete bisogno soltanto di entrare avete bisogno soltanto di accettarlo per fede senza alcuno sforzo senza mettere i vostri pensieri al riguardo è compiuto e poi il fratello Branham realmente mi sopra fa egli disse questo qui sul palco ci sono delle stampelle ci sono delle lettighe c'è una sedia a rotelle guardate semplicemente sul palco guardate cosa è stato depositato qui e poi egli si è girato verso l'uditorio dicendo sorella fratello per favore alzatevi in piedi coloro nei quali questi miracoli sono accaduti ieri sera 1 2 3 4 tutti si alzarono loro stavano seduti là guariti le stampelle erano sul palco le lettighe erano sul palco e le persone erano state guarite erano sedute nell'auditorio e poi come è stato detto il fratello Brana ha fatto questo paragone senza i vostri sforzi credete semplicemente con il vostro cuore per le sue lividure siete stati guariti ricevetelo uso le mie parole prendetelo come una cosa concessa che è vostra che è accaduto per voi personalmente che voi siete stati redenti e guariti personalmente ricevetelo senza alcuno sforzo ricevetelo e ringraziate il Signore per questo e poi sarà manifestato è così bello che Dio ha potuto usare un uomo che non ha portato una teoria ma che l'ha potuto riferire nella vita pratica e la conferma era sempre là dopo la predicazione c'era la rivendicazione quando pregava per i malati ed accadeva il Signore è ancora oggi lo stesso riassumiamo il beneplacido di Dio è rimasto in primo luogo sul Redentore questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto e poi il paragone con Enoch il beneplacido di Dio riposava su di lui ed egli fu rapito e poi della maggior parte di loro Dio non si compiacque perché mormoravano e poi l'ammunizione per noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi questa ammunizione è scritta e indirizzata a noi possa la santa parola di Dio essere indirizzata a noi affinché anche questa riunione questa predicazione possa servirci realmente affinché il Signore possa oggi raggiungere il suo scopo con noi e con tutti su tutta la terra che ascoltano oggi o che ascolteranno in seguito che egli possa realmente portare a compimento l'opera che egli ha compiuto in quel tempo che possa portarla a compimento in voi ed in me che possa realmente portarla a compimento fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore noi crediamo nella potenza del sangue dell'agnello crediamo nella potenza della parola di Dio noi crediamo nella potenza dello Spirito Santo e Dio è presente oggi per salvare i peccatori per guarire i malati e per liberare i prigionieri il Signore Dio possa farci grazia di crederlo e di sperimentarlo amén ci alziamo in piedi per pregare cantiamo il coro così quale sono come muss essai Questa non c'è, 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 c'è. Accettatelo e ricevetelo oggi per fede. E se sentite di farlo, per favore, venite qui di fronte, per favore, venite subito qui di fronte, mentre cantiamo il coro ancora una volta. Talvolta è un bene per noi se abbiamo il coraggio di venire davanti al Signore, davanti al popolo, di accettare davanti al popolo ciò che Egli ci ha dato per grazia. Se qualcuno vuole che insieme si preghi per lui, per favore, venite. Grazie. Grazie. Mentre altri continuano a venire, continuiamo a cantare. Grazie. Grazie. Cari fratelli e sorelle nel Signore, La chiamata risuona. Voi l'avete udita e il Signore ha condotto in tale maniera che oggi voi siete venuti qui di fronte per ricevere. Ed è scritto nel Vangelo Giovanni, capitolo 1, a tutti coloro che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto, il diritto di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome. Lo credete con tutto il vostro cuore, dite a me. Credetelo, credetelo, per favore, credetelo con tutto il vostro cuore. La parola di Dio è degna di essere creduta. Dio sta dietro la sua parola. E anche la dichiarazione del nostro Signore. Chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Perciò l'invito, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Perché abbiamo letto la parola che, nel giorno della salvezza, la remissione dei peccati viene predicata nel nome di Gesù Cristo. E questa remissione, tramite il sangue dell'agnello, noi la predichiamo oggi. E voi ricevete il perdono personalmente per fede. Guardate qui. Credete con tutto il vostro cuore. Ricevetelo, accettatelo. Egli non caccia fuori nessuno. Egli non biasima nessuno. E anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Un pieno perdono. Una volta per tutte. Ricevetelo per fede. Accettatelo. E poi, questo diventerà il più grande e il più importante giorno della vostra vita. E la parola della croce compirà ciò per cui è stata mandata. Ed è scritto che è pazzia per coloro che sono sulla via della perdizione. Ma per coloro che sono salvati, per voi che siete venuti qui di fronte oggi, per costoro diventa la potenza di Dio. Oggi la parola di Dio diventa la potenza di Dio per voi ed è manifestato. Ora preghiamo insieme. Per favore, pregate dietro di me. Adesso, mentre io prego. Caro Signore, per favore, a voce alta. Caro Signore, insieme adesso veniamo a te. Abbiamo ricevuto il perdono. Adesso, personalmente. Caro Signore, io ti ringrazio che tu mi hai accettato. Che tu hai perdonato i miei peccati. Che sono adesso tua proprietà. Tu mi hai salvato. Mi hai fatto grazia e misericordia. Io sono tuo per il tempo e per l'eternità. Per favore, ricevetelo e accettatelo per fede adesso. Alleluia. Lodate il Signore. Lodatelo. Ringraziatelo. Glorificate il suo meraviglioso nome. Cantiamo ancora una volta così qual sono. Sommus e sai. Sommus e sai. Ho spiego. Tualmente il suo meraviglioso nome. Per favore, riceveto eelinō. Garziatelo,aigni sapere, buviato. caro signore io consacro a te tutti coloro che sono venuti qui di fronte che hanno risposto alla tua chiamata io li consacro a te in quest'ora tu li hai ricevuti ed accettati tu li hai perdonati tutti tu hai fatto loro grazia loro sono adesso tua proprietà e possono partecipare alla cena del signore per ricordare ciò che tu hai fatto per noi sulla croce del calvario caro signore benedici tutti e sii con tutti che possano andarsene da qui con la piena certezza di fede la piena certezza di fede che tu li hai accettati che tu li hai perdonati e che sono la tua eredità e la tua proprietà per il tempo e per l'eternità benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e glorioso nome di gesù amè amè caro signore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.